Il papà di Vincent, Matteo Plicchi, continua la sua battaglia personale perché sia fatta giustizia per suo figlio, vittima di cyberbullismo. Sono tante le prove raccolte da Matteo Plicchi, ammissioni, mezze confessioni e uno scarica barile scioccante da parte di una diabolica community che ha ingiustamente accusato Vincent di una terribile infamia. Ci sono organizzati contattando altri amplificatori della notizia, di questa loro fake news, quindi hanno inviato a diversi profili, uno può essere residente in Italia, gli altri sono negli Stati Uniti, comunque un po' diffusi. Qui parliamo di persone che avevano un migliore di follower, quindi i due, lui e lei, inizialmente hanno architettato molto bene come per pagare la cosa, quindi trovando i maggiori influencer di quella community. Questo video è semplicemente il tentativo di neanche di scagionare se stesso perché lui ammette di avere architettato questa cosa però su suggerimento della ragazzina. Praticamente cerca solo di salvare i suoi follower, perché questo evidentemente aveva un interesse e citerei che questa cosa andasse in onda perché sembra che sia un tabù che nessuno vuol dire, TikTok ti paga quando fai le dirette. Quindi questi signori, oltre all'invidia, alla visibilità, non è una visibilità a gratis, è una visibilità che paga. TikTok ti paga sulle live quando hai una certa visibilità. Quindi questo è stato un bel problema. Quindi hanno cercato di farlo fuori perché erano narcisi o perché erano narcisi e avevano un interesse economico perché buttare fuori mio figlio significava maggiore attenzione a loro e maggiori entrate a loro quando facevano le live. Anche perché denigrando Vincent si portavano a casa i follower di mio figlio. Un membro di questa comunità che si occupa di fatto di cyberbullismo incontra virtualmente il promotore di questa grande bugia e lo mette di fronte alla realtà. Ah, mette di fronte alla realtà e non facendo gli sconti. Sono ragazzi e ragazze, comunque un movimento in cui, diciamo, la promotrice ha perso il fratello per vicende simili. Nell'intervista lei va giù, cioè, pari pari con questo signore e lui è completamente indifferente. And I truly believe that what happened is murder. I truly believe that the next time people see you live, it's gonna be live streaming your walk from the courthouse to jail. I social possono annullare la differenza tra bene e male. Stanno annullando, nei ragazzi di questa giovane età, la sottile linea tra quella che è la realtà e quello che è il mondo virtuale, cioè, ti dimentichi che i tuoi effetti sono qui, sono terreni, non sono online. Va talmente in là che se è una persona, se è una persona con un animo un po' più sensibile della media, allora è molto molto pericoloso. Io gli scrivo che con la sua spazzatura, in inglese, pensando fossi inglese, you killed my son with your rubbish, no? Lui dice, mi risponde, ma cosa dici? Mi dice a me. Ok? Ripigliati. Non è stata colpa mia se la gente ha iniziato a prenderlo di mira. Ha fatto il suo sbaglio, queste sono le conseguenze. È uno dei primi propagatori e scrive su una chat che aveva come immagine quella di mio figlio, è un pedofilo, dai. E uno gli risponde, ma solo perché qualcuno ha detto così non significa nulla. E lui scrive, ci sono prove, molte prove, siete ciechi se non volete ammettere che è una persona incredibile. Poi a me invece diceva che no, no, io non ho fatto niente. Poi dopo cambia un po', no? Le persone che hanno pianificato tutto sono state Diana, E.J. e Riley. Mi hanno contattato diverse volte mostrando prove che sono rivelate falsi, mi hanno inoltre mandato messaggi dove le facevano passare per pedofilo. Quindi c'è un piano, addirittura dice, perché come ho detto mi hanno forzato a dirlo. E io dico, ti hanno pagato, non mi pagano per dire niente. Queste persone volevano a tutti i costi fargli eliminare il profilo. Ho le prove, ho degli audio, mi creda. Mi hanno forzato perché io ho molti follower, io per loro avevo più possibilità di far girare sta stronzata. Questo qui, cioè questa è un piano organizzato per far fuori una persona.